buongiorno allora siamo su monopoli oggi vado a ritirare il premio sono terzo al torneo è veramente un peccato perché ero primo e diciamo che c'era il premio del moltiplicatore per mille non l'ho sfruttato decentemente perché potevo fare sicuramente più punti e poi tanto carte nuove ovvia giustamente vediamo ci manca un soffio per il secondo posto quindi cercherò di prendermelo visto che c'è pacchettino viola allora innanzitutto volevo farvi vedere l'album se qualcuno mi può aiutare anche con le carte a uno come vedete vi faccio vedere i set se qualcuno vuole inviarmi qualche carta che comunque me ne sono arrivate veramente tante vi ringrazio tantissimo perché siamo già a 78 carte quindi vi ringrazio veramente molto se volete inviarmi qualcosa anche per farmi completare i primi set così i primi 9 primi 10 come manca solo cucciolo di pegaso amico e comunque ringrazio particolarmente endoni che mi ha regalato mamma mutter mi ha regalato tantissime carte da tre stelle comunque anche altre persone comunque vi faccio vedere un po' i set anche se vabbè qua diciamo che mi manca talmente tanto che è inutile anche chiedervi però chi vuole aiutarmi a completare i primi 9 set primi 10 anche 11 è ben accetto vi ho fatto vedere le carte quindi chi vuole aiutarmi mi raccomando allora facciamo un po le missioni allora mi manca vogliamo finire acquavventura voglio finire con voi che mi da un pacchetto viola ok siamo già ricaricati gli scudi andiamo a ritirare il premio dovrei forse prendermi anche il pacchettino blu quindi forse era meglio se vi faccio vedere il set alla fine visto che effettivamente prenderò un pochino di roba allora continuare per 5 vicino alle tasse aumenterei a per cento oddio che dico acquavventura basterebbe un per 20 faccio un altro tiro per 5 poi aumenta per 20 ecco ora mi va bene questa devo aumentare subito vediamo un po va bene meglio così dai allora diamo a per 20 vediamo se riusciamo subito a fare un 8 facciamo un 7 dammi un 7 di nuovo niente ora mi ha dato l'8 va bene dai giochiamo un pochino a per 20 a questo punto e cerchiamo di completare la missione qua attacchiamo che comunque sia sono punti che ci servono perché potrei arrivare secondo questo video durerà veramente poco è giusto per farvi vedere le carte che mi servono e cercare di finire le missioni ce la facciamo andare su dai dai che ce la facciamo non ce la facciamo qua tentano di distruggermi ma abbiamo gli scudi vorrei anche magari finire ok rapina in banca le missioni le missioni giornaliere le deli va bene dai speravo nella banca rotta visto che stava andando bene non importa adesso pochi punti ma dopo rifacciamoci non ce ne mancano tantissimi per arrivare secondi lo metto per 50 perché è abbastanza inutile ok niente neanche le probabilità ci stanno venendo in soccorso due dadi incredibile bonus eccola qua 40 dadi e finiamo la missione quindi sono quanti 7000 6500 più il pacchettino dorato e sì perché tiro viola niente dorata borseggio avventura c'è una dorata due dorate wow wow pacchettino discreto molto buono direi ok non c'è la dorata a 5 ma due dorate e una 4 e una carta a 5 dominamento riusciamo a prendere la probabilità no prendiamo 60 dadi non riusciamo a prenderla quella ma volevo prenderla perché comunque sia le quest le daily devo farle quindi 40 dadi comunque ma in realtà effettivamente posso giocare tranquillamente a per uno tanto basta prenderla una volta non ci sono altre missioni né niente in giro quindi ok oddio si effettivamente per la stazione potevo però la rapina in banca l'ho appena presa quindi non mi conviene attacchiamo che non non importa lo scudo dobbiamo finire le quest e la la regali attenzione ragazzi regali mammo già ce l'ho e amici piatti già ce l'ho quindi grazie mille a mulino rosso ma ci avevo già le carte ma comunque è un aiuto anche per altre carte vediamo sto giro se sono carte nuove eccola qua ed eccola qua perfetto grazie di nuovo mulino rosso che ci dà delle stelle per i forzieri e anche carte utili nuove io però non riesco assolutamente a prendere da un set era sei perfetto molto meglio raccogli tre adesivi me li hanno appena dati che adesivi non saprei dove raccoglierli sinceramente va beh dai a questo punto chiudo quale video ha devo sistemare un po tutto qua adesso ho capito perché mi attaccano gioco un po per cento vediamo se riusciamo perfetto perfetto detto fatto però prendo una stazione peccato che sia una distruzione proviamo a cambiare avversario perché mi servirebbe da buttare giù ti prego dimmi che vai giù mohamed non va giù mohamed quanti sono 72 mi sa che non bastano a coprire tutto quanto e invece bastano quindi perfetto abbiamo anche fatto questo io vi saluto mi raccomando per le carte siamo anche arrivati i secondi mi ricavando anche lasciate like iscrivetevi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti quelli che mi invieranno le carte e anche ovviamente a mulino rosso che me la inviate in video alla prossima